Tutto fatto per Cristiano Lucarelli che a questo punto sarà il prossimo allenatore del calcio Catania. Il tecnico Livornese, arrivato in mattinata a Catania, ha subito raggiunto Torre del Grifo per discutere gli ultimi dettagli del contratto che sarà un biennale. Vaniglie e Conticchio e i suoi collaboratori, ma avrà anche il preparatore atletico Alberto Bartali nel suo staff, già a Catania nel 2008 ai tempi di Walter Zenga. Poi sarà il tempo degli acquisti, con Alcibiade e Caccetta in pole per un contratto con il club etneo. I due potrebbero arruolarsi alla Rosa del Catania già dalla prossima settimana, dato che ormai il grosso per il loro arrivo sembra fatto. Nel fine settimana invece potrebbero arrivare novità in tal senso, ma per chi arriva c'è sempre chi va. E dunque spazio al capitolo cessioni, se da una parte tutto tace o quasi sul versante russotto Pozzebonne e Kalil, dall'altro nella giornata di ieri è arrivato a un'ufficialità. Il club etneo ha infatti annunciato la risoluzione del contratto di Pier Marteri, che dopo tre anni lascia il club etneo con appena cinque presenze in maglia rossa-azzurra e gli ultimi stralci dell'era cosentino ormai definitivamente in archivio dopo il suo addio.